HM30 a cassoida, in fretta, più in fretta. Unità 9940G, è un'attività. Quando vuoi, io sono qui, guardiano. Non la vedi tutti i giorni, la luce come la sua. Vi serve il mio aiuto? Vi servono occhi e orecchie, titano. Preparati a un nuovo scontro, guardiano. Che ti sia di utilità. Oh! No! No! Grazie. 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 Cadi e noi ti raccoglieremo. Trasmissione libera. Che vada al diabolo. Oceano. A5530. Non sono dimosti così pochi per noi. Sei nel posto giusto. La senti vero? Attenzione, là fuori. Mi dispiace. Alcuni scelgono di restare. Ehi. Un gran bel esemplare di nave. Prenditi cura di quella nave per me. Ti serve un kit? No. 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 È rimasto così poco I caduti si stanno portando via tutto È una fortuna aver trovato questa nave Anche perché un guardiano senza nave non può fare molto per proteggere la città Ci serve un propulsore per lasciare la terra però E qui il cosmodromo è l'unico posto in cui potremo trovarne uno Abbiamo battuto i caduti una volta Possiamo rifarlo Hanno abbattuto la nave di un guardiano Se non l'hanno già vista i caduti Allora potremmo recuperarne alcune parti Allora potremmo recuperare la nave di un guardiano L'avionica è quasi andata Ma posso recuperare le ultime trasmissioni Hanno ripristinato un centro informazioni nella galleria qui sotto Diamogli un'occhiata Allora potremmo recuperare la nave di un guardiano Esso Oh Oh Non ci serve altro che un propulsore Poi potremo fare il salto verso altri lini Non tutti, ma quasi Torniamo indietro Dove troviamo la nave È la nostra unica possibilità Non ci serve Ok, siamo tornati Cerco il propulsore Oh no È già nelle mani dei caduti Spero tu sia pronto per questo Ah 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti